Come si diceva, in realtà non ci sono le interdittive, c'è la documentazione amministrativa, sostanzialmente si dice che alcuni soggetti, credo i soggetti dell'83 del codice antimafia, prima di contrarre o prima di rilasciare i titoli devono consultare la banca dati e poi devono interpellare il prefetto e il prefetto deve adottare o la comunicazione o l'informativa, queste sono le due misure di cui oggi stiamo parlando, comunicazione o informativa. E possono essere entrambe ad esito liberatorio, ad esito interdittivo, perché molto spesso il prefetto anche lui consulta la banca dati oppure fa le verifiche di cui si è parlato e attesta che non ci sono rischi di condizionamento, di inquinamento. Noi naturalmente parliamo delle comunicazioni e delle informative ad effetto interdittivo, la distinzione è netta, la comunicazione è un atto vincolato, la informativa è un atto discrezionale. La comunicazione il prefetto la adotta quando verifica che ci sono alcuni presupposti ben precisamente indicati dalla legge, quindi problemi di legalità, di precisione, di prevedibilità sulla comunicazione non ce ne sono, perché il prefetto attesta all'obbligo di attestare un potere vincolato la comunicazione e quello di adottare la comunicazione attesta che il soggetto è stato colpito da misura giurisdizionale di prevenzione oppure da condanne per certi titoli di reato, quindi il problema per le comunicazioni non si pone. La informativa invece pone i nostri problemi, quelli di cui si è parlato, perché l'informativa, il potere di informativa è un potere altamente discrezionale, è una discrezionalità tecnica certo, non è una discrezionalità amministrativa e tendo per così dire a immaginare che non ci siano scelte nella decisione del prefetto, nessune scelte, non scelte di opportunità, ma sia se ci fosse pure questo, altro che stato di polizia, nessuna opportunità amministrativa, e però la legge come lo descrive il presupposto applicativo, che cosa fida al prefetto di verificare, questo lo ha detto benissimo Antonio, ecco, come dire, chiede al prefetto, demanda al prefetto la legge, l'articolo 84 del codice antimafia e poi anche l'articolo 91,6, sono sparsi negli articoli questi presupposti applicativi della nostra interdittiva informativa con effetto interdittivo di verificare, di valutare, di apprezzare, non è né una verifica né una valutazione, ma non farei troppo l'amministrativista, è un apprezzamento tecnico di apprezzare che ci sia un pericolo, un tentativo di pericolo, ecco, un tentativo di infiltrazione mafiosa, un tentativo di, adesso l'84 dovrei averlo sotto mano, un tentativo di, ecco, infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte o gli indirizzi della società, questo dice la legge, il prefetto deve valutare che ci sia un tentativo di infiltrazione mafiosa tendente, tentativo, tendente a, ecco, come dire, condizionare indirizzi e scelte dell'impresa. Quando il prefetto apprezza questo deve adottare l'interdittiva che ha un effetto, lo conosciamo e perciò siamo tutti preoccupatissimi, ci mancherebbe, lo siamo molto anche noi giudici, comporta la morte dell'azienda o può comportare la morte dell'azienda. e considerato che si ritiene che abbia effetto sine die, sine die, salvo l'aggiornamento, salvo gli elementi nuovi che il prefetto è tenuto ad apprezzare, qualcuno ha parlato di ergastolo imprenditoriale. Io non userei nemmeno l'idea dell'ergastolo, forse è più vicino alla morte che all'ergastolo, perché il giorno dopo l'interdittiva si revocano i contratti pubblici, si revocano le concessioni, è difficile, penso, restare in vita, salvo però il controllo giudiziario di cui occorre tener conto. Io non faccio l'avvocato, mi sarebbe sempre piaciuto, ma se lo facessi, l'avvocato, ecco oggi a fronte di un'azienda colpita da interdittiva, correrei a chiedere il controllo giudiziario di quell'articolo 34 bis, ancorché quest'ultimo sottoposto a presupposti diversi dall'interdittiva, ma tuttavia presupponente l'interdittiva, e di questo vorrei parlare, poi voi mi interrompete quando ritenete. Quindi il presupposto è questo tentativo di infiltrazione, questo tentativo di infiltrazione il prefetto lo deve desumere da alcuni elementi, quindi il legislatore inizia a tipizzarli gli elementi, inizia a tipizzarli gli elementi dai quali il prefetto deve desumere il tentativo di infiltrazione tendente a condizionare scelte dell'impresa, e lo fa innanzitutto nell'articolo 84,4 del codice antimafia. Alcuni elementi sono elementi che hanno una tipizzazione, sono i cosiddetti delitti spia, il fatto di essere indagato per alcuni reati, e sono i reati della lettera A dell'articolo 84,4, oppure il fatto di essere stato destinatario della proposta o del provvedimento di applicazione di talune delle misure di prevenzione. I problemi sono posti da, ecco come diceva il prefetto Nunziante, dal fatto che il prefetto questo tentativo di infiltrazione lo può desumere da elementi atipici, da elementi atipici, cioè non c'è procedimento penale, non c'è procedimento di prevenzione, oppure il procedimento penale, come ha detto Antonio, si è concluso addirittura con una soluzione, con un proscioglimento, e tuttavia, ecco, o dall'ex planandum processuale, oppure da elementi non processuali, quindi sulla base del potere di accesso prefettizio, sulla base di elementi raccolti dall'autorità amministrativa, si desumono appunto questi tentativi di infiltrazione. Che cosa ha detto la giurisprudenza? Passo alla giurisprudenza in poche battute perché, come dicevo, ecco qui il principio di precisione, essendo al cospetto di misure non penali, può essere soddisfatto dalla combinazione di legge e giurisprudenza, a condizione che questa giurisprudenza sia tassativizzante, è il primo requisito perché una giurisprudenza sia tassativizzante che sia uniforme e costante. Ora, a me pare che la giurisprudenza della terza sezione le si possono muovere tantissime, per così dire, rilievi, ma è granitica, è granitica. Io, devo dire, quasi da studioso ne parlo, perché io se ne occupa quasi in via esclusiva il Presidente Frattini e il Consigliere Nocelli. Io me ne sono occupato molto in sede cautelare, ma nel merito poche volte, devo dire. Io poi sono abbastanza nuovo della sezione, sono arrivato quest'anno, a gennaio del 2019, quindi sono con voi, provo a fare un po' di dottrina con voi in maniera ovviamente molto incautra. Però questa giurisprudenza del Consiglio di Stato mi sembra costante. Qualcuno ha ritenuto discorgere qualche contrasto tra Consiglio di Stato e giurisprudenza siciliana. Però non mi pare che sia un contrasto che toglie davvero molto all'attitudine tassativizzante di questa giurisprudenza amministrativa. La giurisprudenza amministrativa è con gli elementi atipici, come dire, dai quali questo tentativo il Prefetto li può desumere, li ha un po' tipizzati. E il Prefetto Annunziante ne ha già parlato. Sono innanzitutto la regia familiare. Ecco, lasciamo stare i casi isolati, stavo sbirciando la sua... Ho visto un tar Toscana 18 che dice il parente del mafioso è sempre parente. No, la nostra giurisprudenza non l'ha mai detto. Il parente del mafioso non è mafioso perciò solo. Però, ecco, se oltre ad essere parente del mafioso intraprendi un'iniziativa economica che richiede un investimento rilevante e non c'è nessuna giustificazione della provenienza dei flussi finanziari necessari per intraprendere quella importante iniziativa economica e se è il figlio del boss, adesso arrivo al più probabile che non, Michela Foggia non ti è citato. No, 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 non lo so. Non mi fa... non mi coinvolgere. Ancora, tra... Tra, ecco, ancora, si dice il subappalto a imprese interdette è un elemento tipizzato in via giurisprudenziale. I balser nelle cariche sociali è stato detto, questa, come dire, vicende societarie anomale. Le cointeressenze societarie con imprese mafiose o con imprese già interdette e sulla base della cosiddetta teoria del contagio sono elementi che a partire dalla decisione che lei ha citato, questa decisione abbastanza datata ormai, e quindi che ha fatto giurisprudenza, questa, la 1747 del 16, del 16, sono, ecco, elementi, come dire, che il prefetto può valorizzare e che quindi tassativizzano una descrizione legislativa oggettivamente, ecco, come dire, non precisissima. Ma può essere il legislatore, perché Isabella prima mi diceva probabilmente è necessario un intervento del legislatore, ma può essere il legislatore? Io non lo so, me lo chiedo più volte, ma può essere il legislatore preciso a fronte di un fenomeno come quello mafioso? A fronte di un fenomeno che inquina l'economia nei mille modi dei metodi mafiosi? L'ordinamento è abituato a clausole indeterminate, all'uso di elementi elastici in tutte le branche, ecco, il governo impedisce ad un'impresa straniera, e non siamo nel penale ma siamo nell'amministrativo, di acquistare un'impresa nazionale con i famosi golden powers perché ritiene che sia in discussione la sicurezza nazionale. La norma non dice cosa è la sicurezza nazionale, non dice. È una clausola indeterminata che tocca all'amministrazione prima e al giudice poi tassativizzare. E non lo so, l'antitrust, tutti i procedimenti antitrust ruotano attorno a nozioni indeterminate. Oggi un'impresa è colpita da una misura antitrust e vi assicuro che sono pesantissime le misure antitrust perché ha fatto abuso di posizione dominante, perché ha fatto intesa restrittiva. Non c'è nient'altro al di fuori di questo nella descrizione legislativa degli illeciti antitrust. Si dice abuso di posizione dominante, si dice illeciti intesa restrittiva. Nient'altro che questo. E il penale è pieno di elementi elastici, è pieno di clausole indeterminate. Talvolta sono elementi di favore e c'era, ecco, chi le riteneva, e Michele come le chiamava, valvole che servono all'ordina, perché l'ordinamento penale respira in termini umani, perché erano le clausole quelle di liceità speciale. Quindi l'ordinamento è pieno di queste clausole indeterminate. Addirittura nel settore più importante per la libertà, il settore penale. Ecco, quindi a me pare che questo sforzo tassativizzante ci sia stato da parte della giurisprudenza. Poi è condivisibile, non è condivisibile. Sono condivisibili o non sono condivisibili le applicazioni concrete di questi principi giurisprudenziali. Però capite bene, lungi da me adesso provare a dire se la singola sentenza ha fatto corretta applicazione di questi principi giurisprudenziali. Ma guardando alla cornice, ecco, a me pare che lo sforzo tassativizzante ci sia a fronte di un fenomeno che non si presta tuttavia ad una fotografia legislativa puntuale, ad una descrizione legislativa puntuale precisa, perché il fenomeno più in movimento che c'è nel nostro sistema, qual è il fenomeno mafioso. E queste misure sono misure di tutela avanzata, servono a questo, a colpire appunto in via preventiva, se ci fosse una descrizione legislativa puntuale, precisa, molto sfuggirebbe all'obiettivo della tutela anticipata. Capisco però che è in gioco la libertà di iniziativa economica ed è un bene sacro, tanto più in un momento in cui ne abbiamo bisogno, e come, di intrapresa economica. Attenzione però che anche il tema della libertà di iniziativa economica guardiamolo sotto i diversi punti di vista, perché è vero che occorre proteggerla dalla libertà di iniziativa economica e occorre proteggerla da misure prefettizie sbagliate, Antonio, può capitare. E occorre proteggerla però dalla mafia, la libertà di iniziativa economica privata, non soltanto dai prefetti, anzi direi prima dalla mafia, poi dai prefetti, che pure possono sbagliare. E queste misure di tutela anticipata servono a proteggere il sistema economico privato pulito dagli inquinamenti mafiosi. Questa è la razio. Ora, ecco, ci sono forme di tutela, appunto, e o sono adeguate oggi le forme di tutela, c'è un adeguato bilanciamento e il titolo del convegno. Ora, io penso che il bilanciamento sia affidato, innanzitutto alle modalità con cui i prefetti valutano il materiale iniziario, al modo con cui i giudici sindacano il potere prefettizio esercitato, e poi anche, però, alle misure che l'ordinamento ha introdotto di recente, nel 17, tutto sommato, nel 14 e nel 17, facciamo così, il commissariamento cantone e il commissariamento, invece, ecco, il controllo giudiziario, che hanno, rispondono ad una finalità del tutto diversa, quella della decontaminazione mafiosa dell'impresa, quella, ecco, un effetto, la finalità terapeutica dell'impresa che ha occasionalmente contatti con la mafia, e il 34 bis, il controllo giudiziario. Ora, i prefetti apprezzano, sono le tre frontiere, diciamo, come i prefetti applicano, come i giudici, ecco, sindacano, e poi, appunto, l'operatività di queste misure che rispondono ad una finalità non afflittiva, come le interdittive, ma ad una finalità terapeutica. Sono misure volte a dare l'ultima chance terapeutica ad un'impresa che, ecco, ancorché occasionalmente è entrata in contatti, ecco, a volte anche compiacenti, non soltanto soggiacenti, con l'organizzazione criminale di stampo mafioso. Ora, i prefetti applicano adeguatamente, non lo so, è a giudicare dai numeri l'80%, però questo è un argomento che può prestarsi a diverse letture, perché la lettura positiva è che i prefetti fanno bene, la lettura l'altra è che noi giudici non sindacchiamo adeguatamente. Quindi la lascerei, l'80% lo dimenticherei. Beh, mi sono dovuto dire. Eh, ci mancherebbe. In realtà, lo devo dire, è una giurisprudenza granitica la nostra su questo. Io prima di venire qua mi sono confrontato con i miei colleghi. E quindi, capite bene che sono pure in una situazione, diciamo, non semplicissima. La nostra giurisprudenza, quanto al procedimento, sostiene che non vi è il diritto al contraddittorio procedimentale. In realtà non c'è nella legge la previsione, c'è la previsione di una facoltà del prefetto. Tant'è che, si dice, è necessaria forse una modifica legislativa. Ora, io non sono qui a sollecitare modifiche legislative, però certo che non ci sia un contraddittorio procedimentale su una misura che determina effetti di questo tipo e una peculiarità, diciamo, dell'ordinamento. Non c'è un contraddittorio procedimentale perché tutto avviene tra le amministrazioni. I soggetti dell'83 chiedono al prefetto. Il prefetto detiene spesso elementi dell'indagine penale su cui c'è una riservatezza, se non addirittura un segreto penale e quindi, ecco, spesso non ritiene di coinvolgere l'impresa e di colpirla prima e poi si difenderà nel giudizio. Al di fuori di questo, però, ecco, come i prefetti valutano e poi come noi giudici sindachiamo, con questo criterio del più probabile che non. Che cosa è questo più probabile che non? Nell'ultima decisione, la 6105 del 2019, il più probabile che non è stato affiancato da un'altra nozione che solo a citarla è ancora più, non dico imbarazzante, ma è di fonte dottrinale. Non è nostra dei giudici amministrativi. È una definizione tratta da uno scritto di Occhiena che è un ordinario della cattolica della Bocconi di Milano. e la cosiddetta probabilità cruciale. Insomma, il più probabile che non, trovo a dirlo come la capisco io da giudice, ecco, che ogni tanto si occupa di queste cose, serve a dire che è un criterio civilistico di lettura degli elementi, ecco, del quadro, e si contrappone al criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Però attenzione, che anche nel diritto penale l'oltre ogni ragionevole dubbio è subentrato, almeno applicato al tema della causalità, nel 2001, cioè ieri, con la sentenza franzese. Ma prima del 2001, ecco, tranne la pausa Battisti del 2000, è altro che più probabile che non. Si diceva che la causalità, quella la cui verifica positiva comporta accertamento di responsabilità penale, questo è un dibattito che si è sviluppato soprattutto a proposito della responsabilità penale sanitaria, della responsabilità penale dei medici, che la causalità potesse essere desunta sulla base di un criterio statistico, frequentista, probabilistico, e che fosse sufficiente talvolta un numero di probabilità anche del 30, del 40%, che qualora ci fosse stato l'intervento incautamente omesso dal medico non si sarebbe verificato l'evento in fausto. Quindi anche nel diritto penale il criterio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, ecco, subentra almeno quanto alla causalità soltanto nel 2001. Prima era il criterio probabilistico che si utilizzava. Oggi qua non siamo nel penale, siamo nel campo della prevenzione amministrativa, cioè di misure cautelari, non di misure penali, di misure non volte a sanzionare, ma a prevenire il rischio di inquinamento del sistema economico. E quindi la giurisprudenza ritiene di utilizzare il criterio probabilistico. Ecco, affiancato oggi in questa decisione dalla probabilità cruciale, che è un passo in avanti. Puoi applicare tutto questo in concreto è complicato, ma quanto alle enunciazioni teoriche significa, alle enunciazioni teoriche, che fermo il quadro degli elementi indiziari, fermo il quadro degli elementi indiziari, io devo verificare, io giudice, e l'avvocato deve provare a dimostrare, o deve provare a dimostrare il contrario, ecco, che una spiegazione alternativa alla spiegazione data dal prefetto con l'applicazione dell'interdittiva di quel quadro indiziario, sussista, e abbia un tasso di probabilità superiore ecco, alle probabilità che il prefetto ha posto a fondamento della sua spiegazione causale, della sua spiegazione, e quindi dell'adozione del provvedimento interdittivo. Questo significa, più probabile che non, l'ha quantificato l'ultima decisione, 50 più 1, dire 50 più 1 però è tosta, ho probabilità cruciale, significa che occorre comparare le letture possibili del quadro indiziario, e che l'interdittiva deve essere applicata, perché il più probabile che non, non è un elemento, un criterio del giudice, è un criterio prima dell'amministrazione, ecco, deve applicare l'interdittiva quando ritiene che una spiegazione di quegli elementi indiziari che portano a ritenere, sussistere il tentativo di infiltrazione e di condizionamento, supera appunto probabilisticamente la portata appunto persuasiva della spiegazione alternativa. questo significa più probabile che non, applicarlo in concreto, capisco bene, però anche applicare in concreto l'oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale non è privo talvolta di elementi, per così dire, non dico di ambiguità, ma di oscillazioni interpretative, di non certezze interpretative. Questo però significa in concreto, chiuderei però dicendo che l'ordinamento, forse di tutto questo, ecco, rischio che pezzi interi dell'economia, perché stiamo parlando, diceva Antonio, non so il numero complessivo, il numero 14-18, nel quadriennio 14-18, le interdittive sono state 2.000 complessive, 2.000, 2.044, di cui molti al sud, 1.458, 1.044 Calabria Sicilia, tutto sommato a Bari 23 nel quadriennio, a Lecce di più 30, a Foggia 39, però attenzione che ad essere colpite non sono piccole realtà aziendali, talvolta sono aziende importanti, con centinaia di dipendenti, quindi sono pezzi dell'economia italiana che sono attinti da questi provvedimenti interdittivi, adesso anche se è colpita un'impresa con 4 dipendenti è un problema lo stesso, ci mancherebbe, però ecco, nel valutare l'impatto sul sistema economico, non sulla singola persona, ma è importantissimo anche questo, certo il fatto che siano colpiti con questi numeri, 2.000 imprese di varie tipologie, peraltro, che sono pezzi dell'economia nazionale, è un problema che occorre porsi e occorre porsi con grande attenzione e ben avete fatto a intitolare bilanciamento, io avrei fatto bilanciamento tra esigenze di sicurezza, libertà di iniziativa economica e salvaguardia del sistema economico nazionale, non soltanto la libertà di iniziativa economica. Attenzione però che c'è un istituto, un istituto che ha fortemente voluto Fiandaca, perché Fiandaca ecco, presiedeva la commissione allora, e cioè quest'istituto del controllo giudiziale, Fiandaca, come è noto, non soltanto per la sua provenienza territoriale, ma anche per la sua levatura professionale, è un esperto di questo settore, del settore delle infiltrazioni mafiose, della mafia in generale, delle infiltrazioni mafiose. Questo poi è un bel tema perché costringe penalisti e amministrativisti a confrontarsi, è uno dei tanti temi nei quali ormai i penalisti e amministrativisti devono confrontarsi. Il controllo giudiziario, e chiudo, questo istituto previsto dal 34 bis dello stesso codice antimafia, è un istituto che innanzitutto presuppone l'interdittiva, quindi l'impresa colpita da interdittiva può chiedere il controllo giudiziario. Al giudice, questa volta, non più all'amministrazione, al giudice, è necessario quale secondo presupposto che il giudice si avveda di una occasionalità dell'infiltrazione, sicché, ecco, l'impresa deve essere stata colpita da un'interdittiva che non richiede un'occasionalità e invoca un controllo giudiziario che, ecco, pendente l'interdittiva e il processo amministrativo avverso l'interdittiva, ecco, consente all'impresa di sopravvivere commissariata, naturalmente, o comunque vigilata con un presidio di legalità per un certo periodo sulla base di un istituto che è stato pensato ed è diretto a decontaminarla, non a confiscarla, tutt'altro, perché è una di quelle misure con finalità terapeutiche di decontaminazione, ormai è pieno il nostro ordinamento di misure con finalità terapeutiche e, ecco, quali sono i rapporti fra queste due misure? Noi all'interno della terza sezione ce lo siamo posti più volte, chiudo in due minuti o finito. Innanzitutto, qual è la logica del controllo giudiziario del 34 bis? È che finché è incerta la fondatezza e la legittimità dell'interdittiva perché l'impresa è stata colpita da interdittiva ma ha fatto ricorso al giudice amministrativo avverso l'interdittiva, ecco, è necessario sperimentare l'ultima chance di salvezza e di decontaminazione, di terapia, come dire, dal fenomeno mafioso. Questa è la logica sottesa al 34 bis. Abbiamo un problema di coordinamento fra i due processi perché questi due processi viaggiano paralleli. Il processo dinanzi al giudice amministrativo ha detto con il ricorso avverso l'interdittiva e poi il processo davanti al giudice ecco, del controllo giudiziario, un giudice penale che decide di applicare o non applicare. Ora, per quanto riguarda il giudice penale si è posto il problema dell'impugnabilità, del diniego del controllo. I giudici talvolta negano il controllo, negano, il beneficio del controllo giudiziale. Ecco, rigettano l'istanza di controllo perché ritengono non ci siano i presupposti. Vuoi perché non c'è l'interdittivo perché adesso vi dico il processo avverso l'interdittiva si è concluso, vuoi perché non c'è l'occasionalità dell'infiltrazione. E ci si è chiesti se sia appellabile, impugnabile questo diniego e in termini affermativi la giurisprudenza si era espressa in senso contrario. La Cassazione il 19 novembre con questa decisione 46.898 si è pronunciata nel senso della rimediabilità del diniego, dell'impugnabilità in appello del diniego. Questa sentenza però è importante perché la Cassazione evidenzia che il giudice del controllo giudiziale e adesso il giudice d'appello nel caso di impugnazione del diniego non si deve occupare dell'interdittiva. Ecco, non si deve occupare della legittimità dell'interdittiva perché della legittimità dell'interdittiva si sta occupando anche il giudice amministrativo e non c'è bisogno che ci siano come dire sovrapposizioni. Ora, per cui questo è il processo sul controllo giudiziale. Che succede al nostro processo amministrativo quando un'impresa chiede il controllo giudiziale? Ecco, davanti al giudice al TAR alla terza sezione del Consiglio di Stato pende un ricorso avverso l'interdittiva. Innanzitutto la pendenza del ricorso avverso l'interdittiva è presupposto perché si possa applicare il controllo giudiziale. Sì che se non c'è ecco il ricorso o se il ricorso sia stato definito con una giudicato amministrativo di reiezione non c'è più controllo giudiziale il giudice non può applicarlo e se l'ha applicato cade il controllo giudiziale. Questo accade perché così prevede la legge. La legge prevede che il controllo giudiziale sospende gli effetti dell'interdittiva ecco avevo dimenticato di dire questo ma era la ragione per cui dicevo che se fossi avvocato chiederei sempre il controllo giudiziale per la mia azienda colpita da interdittiva perché il controllo giudiziale se rilasciato dal giudice penale sospende gli effetti dell'interdittiva e la logica è stata è proprio quella sospendere gli effetti dell'interdittiva nelle more che ci si pronunci sulla legittimità di quell'interdittiva ad effetti così drammatici per l'azienda ecco e dare all'azienda nel frattempo la possibilità di una salvezza di una terapia di una decontaminazione ma che succede del processo amministrativo su questo noi siamo stati molto combattuti ma ormai c'è una giurisprudenza che si va consolidando e non so se posso dirlo sì tutto sommato forse si consoliderà ancora perché ci siamo confrontati in una dunanza di sezione al riguardo questo per dire che il tema noi lo avvertiamo è stato molto discusso proprio negli ultimi giorni ecco noi sospendiamo il processo amministrativo sospendiamo il processo amministrativo nell'emore della pendenza del controllo giudiziale ora non è completamente scontato tutto questo e Cantone di cui sono molto amico mi dice che non è a qualche perplessità su questa diciamo nostra giurisprudenza volta a sospendere però la razio di questo orientamento è quello di il problema è questo che se noi non sospendiamo ecco faccio che succede se non sospendiamo se non sospendiamo chiudo con questo se non sospendiamo e decidiamo e decidessimo di respingere naturalmente se decidiamo per l'accoglimento il problema non si può cade tutto cade l'interditiva cade il controllo l'impresa torna in bonus ecco se noi dovessimo però respingere il ricorso noi Consiglio di Stato quindi ultimo come dire grado di giudizio dovessimo respingere il ricorso verso l'interdittiva viene meno la pendenza processuale la pendenza processuale è presupposto del controllo cade il controllo sicché ecco tutto sommato questa giurisprudenza che ormai si è ripetuta siamo a 5 6 ordinanze di sospensione alcuni sospendono altri rinviano forse è meglio la sospensione perché poi c'è la legge pinto e quant'altro sui rinvii ma è sia è meglio la sospensione motivata e dicevo la sospensione è volta del nostro processo è volto a non vanificare le ragioni della terapia cioè la chance di terapia dell'azienda che l'ordinamento ha voluto concedere ecco introducendo il 34 bis e tutto sommato c'è un giudice ordinario che ha ritenuto ci siano i presupposti l'occasionalità dell'infiltrazione per concedere il controllo ha avviato il presidio di legalità ha avviato verso la decontaminazione l'impresa sicché è bene che questo tentativo ultimo di decontaminazione sia portato per così dire fino alla fine e un modo del legislatore perché rispondo alla vostra domanda per bilanciare e per limitare forse anche il potenziale danno in sede cedo ma non lo so adesso sicuramente per bilanciare le esigenze per così dire della ecco aggressione statuale e della come dire rischio di infiltrazione nell'economia pulita con l'esigenza di tener conto non solo della libertà di iniziativa economica ma anche dell'integrità del sistema economico nazionale perché tutto sommato ecco il controllo giudiziale è un istituto che queste due esigenze le coniuga in qualche modo consentendo ecco espropriando temporaneamente i vertici aziendali del potere di dirigere l'azienda introducendo nell'azienda un presidio di legalità e verificando se in due tre anni perché questo è l'arco temporale solito del controllo giudiziale ecco quelle occasionali ragioni di contatto di infiltrazione di condizionamento delle scelte degli orientamenti aziendali possano essere del tutto estirpati si possa ripulire l'azienda e l'azienda possa tornare per così dire ad operare nella sistema economico il che è un bene non solo per il singolo imprenditore ma per il sistema economico nella sua interezza mi fermerei grazie grazie